Sul nostro organo di stampa personale che va in più di 30.000 pubblici esercizi abbiamo spiegato ai baristi che entro il 15 dicembre vanno sostituite le vecchie comma 6, quelle comma 6A, a conferma che non crediamo come si vocifera in giro che la VLT sostituirà la comma 6. In secondo luogo, e lo abbiamo avvisato spesso i nostri iscritti, noi ci siamo riuniti diverse volte, non ci sono tutti i gestori nostri che credono che la VLT sia un mostro, ci siamo posti delle domande su una materia che comunque è nuova per tutti, sarebbe inutile fare i stregoni a prevedere quello che sarà. Io ho sentito gente che diceva che la VLT finisce in 6 mesi, ho sentito gente che diceva che la VLT sostituirà in 6 mesi la slot, invece l'approccio dovrebbe essere un pochino più pragmatico, quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata questa, l'abbiamo pubblicizzata molto sul nostro sito, è dare assistenza a chi vuole entrare in questo business. Un'associazione non può obbligare i propri iscritti a non entrare o entrare in questo business, siamo un'associazione che guarda verso il futuro, non è detto che il futuro nostro sia sempre a slot, la VLT o tutto, perché tra 5 anni potrebbe esistere un altro prodotto. Quindi abbiamo fatto delle valutazioni, rispetto a quando è entrata in vigore la Comma 6 abbiamo avuto l'impressione che il gestore con l'entrata in vigore della Comma 6 vuoi l'impianto normativo, vuoi probabilmente alcune carenze delle associazioni, è stato poco tutelato e dal punto di vista contrattualistico e dal punto di vista dell'informazione. Quando è entrata la Comma 6 facevo l'avvocato e mi ricordo che dicevano tutti che non era un prodotto per il gestore, ve lo ricordate? Poi è diventato un prodotto per il gestore, quindi noi in questo momento abbiamo orientato il nostro atteggiamento a capire la VLT con le commissioni interassociative, fare delle proposte alternative, ma una attività interna per i nostri iscritti è quella di approntare una diversa contrattualistica, perché sapete benissimo che non è un rapporto unilaterale quello della VLT, ci possono essere rapporti in cui c'è un gestore che compra un diritto, un gestore quello che compra a metà, un gestore che lo affitta e tutto. Bene, per far stare tranquilli i nostri iscritti abbiamo messo a disposizione una contrattualistica importante.